Uncharted 4 Uncharted 4 Uncharted 4 Ok, ora così devi guardare là e lanciarti, bravo Abbiamo ancora qualche problema con i comandi, raga Però piano piano ci sto riprendendo Fine di un lato, pronto per l'installazione, va bene Piano piano ci siamo quasi, piano piano ci sto riprendendo Mamma mia Che ci siamo lanciati male Ci sto riprendendo la mano, signori miei Piano piano, piano piano Non giocavo uncharted da non so quanto tempo Oh, scenetta, scenetta Cavolo Non l'hai puntellata? Ma l'ho fatto O almeno credevo d'averlo fatto Non importa, passeremo dall'alto Dall'alto? Tu seguimi Guarda Il nostro fratello è uno scassinatore nato comunque Cioè È un teppista È un teppista di prima qualità comunque Cioè Non vorrei dire Va bene Va bene È sempre il nostro fratello Quindi diciamo che Dobbiamo Tieni premuto L1 L1 Quindi si sale con L1 Ok L'angelo da questa parte E salire Ok Sali Ok Dai, dai, dai Ok Calati Calati Mamma mia che botta nelle ginocchia abbiamo preso Vai così Vai così Vai così Mi sono perso Dove è andato quello? Di qua ci possiamo andare? No Di qua Buttati Ok Dov'è? Dov'è Sam? Sammino? Dove sei Sammino? Sali E salto Oh Non pensare a salta Puoi farcela Ma infatti Ti avevo detto Dov'è salta Non avevo visto nemmeno Quanto era il Di lunghezza Il Di Quanto era grosso il salto Però gli avevo detto Di saltare a prescindere Mamma mia Che ce la siamo vista brutta Raga Cioè nella vita reale Non l'avrei mai fatto Una cosa di questo genere Nella vita reale Non l'avrei mai fatta Dai Su 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 Con calma Bravo Grande forza Nella Io ripeto Quello che ho detto L'altra volta Grande forza Nella E' bella C'è sto ragazzo Oh la grafica E' spettacolare Comunque raga La grafica di suo gioco E' sempre stata spettacolare Questo è il quarto capitolo Del Muoviti verso l'obiettivo Per accovacciarti Ok Quindi Devo stare Semino Il nostro piccolo Sam Resta al centro Resta al centro E procedi con calma Ma come saliamo Sei scemo Nathan Ok Al centro E procediamo con calma No vabbè Ma è anche un Un artista del circo Il nostro fratello Comunque Wow Spettacolo I giochi di luce Sono bellissimi Pronto Tarzan Ah ma la dà a me Che Che fratello Premoroso Mi fa saltare Prima a me Nel voto Ma che fai Scherzi E come Ok Dondolati Ma noi vogliamo subito Senza problemi Ok Addirittura lui è riuscito A staccare la corda Dove stai fratello? Fratello Dove sta andando? Di là Ok Andiamo 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 Lo seguiamo a ruota Lo seguiamo a ruota Raga Vai così Ok Sali sul campanile Ce la fai ora? Troppo alto Troppo alto D'accordo Allora fai il giro Ok Giro Giro Tondo Quanto è bello Perché penso che queste cose si romperanno? Perché ho questa vaga impressione che queste cose di legno Non terranno niente Oh Invece ce l'abbiamo fatta Oh Siamo arrivati fino a qua Per quale motivo? Veramente un gran bel panorama Signori miei Porca miseria E dove sei Johnny? Eh Sam Scusami Non so perché L'ho chiamato Johnny Qualcosa mi dice che siamo caduti Qualcosa mi dice che siamo morti Sì Siamo morti Giustamente Raga Se non c'è una morte a video Non siamo contenti Dai dai Dobbiamo centrare Dobbiamo semplicemente centrare il passaggio Ok Allora Dai dai Giro giro Tondo Quanto è bello il mondo Aspetta qui E guarda me Ok Facile Ma che fratello Veramente Che ci fa fare Cose tranquille Abbiamo Ok Ora se tu ti lanci di qui Non te le spezzi le gambe È vero? Poco fa Per un salto studio Ti si è spezzato le gambe Come saltiamo? Così? Mamma mia Al limite Al limite Ma ce l'abbiamo fatta Cioè come che non si La spalla è sana Cioè la seconda volta che facciamo un volo Di non so quanti metri Questo ci acchiappa per un braccio E noi la spalla tranquilla Io Se faccio Un brutto movimento Per stiracchiarti Mi esce la rotola La scapola Praticamente Questi fanno salti Da muro a muro Ed è tutto tranquillo Ma che cosa? Ma che vuole da me? Ah guarda Il nostro fratello Che ci dà fiducia Premi per lanciare Ok Bravo Grazie E quindi che dobbiamo fare? Ci lanciamo così Ci lanciamo nel vuoto Ma per andare dove? Siamo fuori dall'olfanotrofio quindi Sì Siamo fuori dall'olfanotrofio raga E ora? Che mi fai fare stavolta? Scendi Ah Per fortuna una scala E com'è possibile Che abbiamo trovato una scala raga? Per poco non prendevamo il marciapiede E ci Sfracellavamo una caviglia Siamo liberi Così si fa Siamo liberi Che te ne pare? Eh? No L'hai preso la 2,50 2,50? Che stai farneticando? No È la 502 Cilindri Incredibile Già Dove l'hai rubata? Wow È un colpo basso Ok Devi sapere che sono Molto cambiato L'ho comprata Lavorando sodo Dai su Monta in sella Cosa? Eh? Quando fai queste sorprese è perché Cerchi di farti perdonare Tu sei fin troppo sveglio lo sai vero? Va bene Ho trovato lavoro Pagano bene Molto bene Ma Starò fuori città per un po' Quanto sarebbe un po'? Circa Un anno Al massimo Ma tornerò prima che tu te ne accorga Credimi Mi pianti in asso? Oh smettila Non essere così tragico Quindi non ti è bastato Abbandonarmi lì dentro? Come puoi farmi questo Sam? Ehi Lo faccio per il tuo bene Che c'era brutta Quei soldi saranno utili a entrambi E nel giro di un paio d'anni Un paio d'anni Portami con te No Mantengo a stento me stesso Contribuirò Senti So che l'orfanotrofio di Ma sai quanto? Sì Ma ora per te è la soluzione migliore Capito? Davvero Fidati di me Non è giusto Ehi Abbiamo mai avuto niente di giusto? Ma ce la siamo cavata No? Certo Beh Sai La moto non era l'unica sorpresa E dovrò svelarti la seconda Cosa? Ho trovato le cose di mamma Quelle vendute da papà Ho rintracciato l'acquirente Ti avverto se lo dici solo per consolarmi No, no, no Te lo giuro Dove? Ah Al di là della città Che ne dici di andare a prenderle? Vuoi dire rubarle? Beh Non puoi rubare ciò che ti appartiene già Non credo che la polizia sia d'accordo Allora non facciamoci bettare Io ci sono sempre raga Che giustamente Non parlo perché nelle scene video Ovvio che sì Ora sono tornati alla realtà Porca miseria che sventola Che ci ha tirato questo Questo va a star mafossido lo che sperava eh Questo è in un'fasi Siamo in un carcere Non so dove Dobbiamo impegnarti un po' di più Amico Perché abbiamo sconestato Quindi dobbiamo fare a punni Ok Dobbiamo fare a punni Tieni venuto per attaccare Veloce 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 Non te l'aspettavi Sì che è sto limba Saper pelare eh Non te l'aspettavi eh Sfugge al colpo Sfugge al colpo Bravo così Nathan Nathan colpisci Colpisci no Aia 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 Come siete per me Sfugge al colpo Sfugge al colpo Bravo così Bravo Nathan Colpisci E dai No 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 Gli altri esterni non valgono Gli altri esterni non valgono Porca miseria E levati Te la do dopo la maglietta tua Mamma che botta Mi ha dato E levati alle scato E vai da quel lato Aia Aia Abbiamo qualche problema Con la coordinazione E colpisci La porca miseria Aia Aia Liberta 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 Bravo facciata a muro Questo ha fatto male Questo ha fatto male Questa ha fatto male Ah anche questo ha fatto male Però E' piedi E' piedi E' piedi Questo è fratello di voi Prima E' piedi Adesso 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 Aia Che fanno che schifo Che fanno che schifo Perché cambi tasti Perché cambi tasti dai 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 lo sto premendo il triangle lo sto premendo il triangle dai è così dai picchialo 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 di far bello così no c'è un mix di storia da un punto all'altro spettacolare però va bene ora che dobbiamo fare ci stanno riportando in jail andiamo quanto tempo dovrò restare qui dentro e dov'è il bagno ce l'hai davanti divertiti sicuro grazie mamma che cosa brutta in isolamento va dai stiamo solamente facendo amicizia un poco quello che ci ha portato quello che ha fermato la rissa esagerato come spingono questi secondo capitolo un luogo infernale va bene ragazzoli allora io questo secondo video lo fermo qui se ripeto ci sono commenti positivi e like positivi sabato e domenica prossima continuiamo quest'avventura se no cercheremo altro detto questo ragazzo vi ringrazio per i commenti e per il like vi auguro una buona serata un abbraccio a tutti carissimi maulliani ci vediamo al prossimo video o live bella raga ciao